È vero, ci stiamo impegnando molto per portare EMA a Milano. Grazie per la collocazione prevista per il pirellone, molto importante. Io domani sarò a Bruxelles, partecipò alla riunione di tutti i leader del Partito Popolare Europeo. Ci sarà anche la signora Merkel, con cui abbiamo già parlato sul tema, con cui il nostro bravissimo Antonio Tajani ha più volte avuto dei discorsi e quindi domani noi cercheremo di fare la stretta finale per far sì che l'Europa assegni alla nostra Milano una istituzione così importante e così rappresentativa.